Lo sport come attrattore per il turismo e volano dell'economia locale se ne è discusso a Capri nell'ambito dell'evento eccellenze reali nella sala Morgano dell'hotel Quisisana, evento preceduto dall'arrivo in piazzetta di 75 delegati di Universiade a testimonianza di oltre 100 paesi che hanno incontrato i bambini dell'isola impegnati negli sport rappresentati dalla manifestazione in programma fino al 14 luglio. Ad accogliere la delegazione guidata dalla responsabile delle relazioni istituzionali Anna Paola Voto, il sindaco di Capri Marino Lembo. Sport, cultura e l'isola di Capri camminano sempre molto abbinati quindi per noi è una bellissima occasione, cercheremo di fargli vedere non solo i nostri giovani attriti che ci auguriamo domani partecipare anche all'università di future ma vogliamo anche far vedere un po' la nostra isola, le bellezze così diciamo hanno la possibilità di portarsi un altro bellissimo ricordo del Golfo di Napoli e delle nostre bellezze del sud. Dopo il grande successo della cerimonia di apertura si è aperto il programma culturale dell'universiade che prevede tra le varie mostre, esibizioni artistiche ed altre performance di grande eccellenza nei prossimi giorni anche dei tour turistici. Il primo lo abbiamo inaugurato nella nostra perla che è l'isola di Capri ma poi ci sposteremo in tutti i territori. Con i grandi campioni dello sport nel pomeriggio al Quisisana il presidente della stampa sportiva mondiale Gianni Merlo, il vice presidente nazionale dell'Ussi Gianfranco Coppola e in rappresentanza della FISU Colin Frenzen, il campione olimpico Franco Porzio. Lo sport è un veicolo, è un trail molto importante per il turismo sportivo ovviamente poi in questo periodo le università di Napoli fanno sì che tanta gente da tutto il mondo viene a Napoli, vede le nostre bellezze, le nostre realtà e mi auguro possa ritornare anche perché sono luoghi e posti da vedere non solo a Napoli ma nella regione campania. Quindi lo sport è un grande veicolo per il turismo sportivo. L'evento eccellenze reali a Capri si conferma strategico per lo sviluppo del territorio come conferma Enzo Citarella di Plus Service, organizzatore dell'evento. Un'occasione che diventerà per eccellenze, per Capri e per la campania uno strumento di promozione importante. Alla fine questi delegati che arrivano da molti posti del mondo diventeranno dei veri e propri testimonial delle nostre bellezze campane.